9 dicembre 2014, un marathon con un buon sabo, 18esimo Denise, auguri, auguri, bravissima grazie, stai intendo perché i soldi per i fiori non ne ho, tutte le copie al centro dell'offista, così domani lo rivediamo nelle nostre immagini Facebook e anche su Youtube, dovete scrivere, salvo sui milano, diciottesimo Denise solo da dopo questo quadro ci sarà la proiezione, si, salvo, però dopo continuiamo con la mamma e papà, dici, 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 infatti, infatti a Scania, lui c'è la mamma nella tasca, non mi posso fare niente, così coccinella, fai a parlare da festeggiarla col papà, si, io la mattina così poco ci parliamo la proiezione e allora, Denise, parliamo un nuovo male a Camilla, grazie Denise, parliamo un nuovo male, grazie bene, Denise grazie